Obiettivo Vale è il progetto fotografico messo in campo dall'Unione Rugby L'Aquila, la nuova società di rugby di Serie A, che domenica inizierà il suo cammino nel campionato. Uno staff di 10 fotografi non professionisti, coordinati da un professionista invece come Roberto Grillo, che per esperienza sarà il maestro. Raccoteranno attraverso le immagini e le attività dal mini rugby sino alla prima squadra, una vera e propria scuola di formazione di fotografia del rugby da parte di appassionati di fotografia, alcuni di loro senza nessuna esperienza nel rugby. Sarà bello vederli crescere, ha detto Grillo. Alla fine dell'anno vorremmo fare una sorta di saggio con tutti i loro lavori. L'obiettivo è sintetizzato in produrre materiale per un uso sia personale della società e sia per organi di stampa come è normale che sia. Come secondo obiettivo è quello di costruire, è quello di creare una scuola di fotografia di rugby, visto che questa città ha il rugby come tradizione primaria, quindi dare vita a questo esperimento che speriamo potrà continuare nel tempo e magari forse la prima scuola di fotografia di rugby farla qui e anche un po' rivendicare il ruolo centrale del rugby che noi per tanti anni abbiamo avuto in Italia e che negli ultimi tempi abbiamo un po' perso per mancanza di risultati. Copriremo tutta quella che è l'attività della società partendo dai più piccoli ai più grandi, cosa che negli anni passati non è accaduto. E voi capite bene che questo significa portare all'esterno l'attività dell'Unione Rugby L'Aquila che quest'anno è un'attività estremamente complessa proprio per la partecipazione a ben sei campionati più la cura di tutti i nuovi, giovani, piccoli atleti, rugbysti che sono qui nella nostra società.